bella mitice mitiche un bel video con l'escavatore e no scusate la ruspa e il camion sani e lavoriamo un po prepariamo il terreno qui per poter fare il la pista d'atterraggio ok amici e amiche a Grazie a tutti. 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 a tutti. a tutti. Allora... io lo faccio io lo faccio io lo faccio. ok? Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.